Ciao a tutti, oggi è giovedì 14 giugno 2018, mi trovo qui in via Giovanni Mazzoni. Allora, voglio farvi vedere una cosa. Allora, come potete vedere, in questa zona qui abbiamo una discesa di Sabili, ok? Vedete? Allora, ci sono i bidoni dell'organico, abbiamo un bidone dell'indistinto, un bidone della carta, un bidone della plastica, vedete? E un bidone del vetro. Allora, Alessandria, tempo fa, si era candidata in un concorso, credo, come città modello per i disabili, diciamo, per, com'è che posso dire, aiutare i disabili nella varia circolazione stradale e robe varie. Allora, vedete? In queste condizioni qui, un disabile come può scendere con una carrozzina? Immaginatevi voi, Alessandria candidata, non così per scherzo, perché qui in Alessandria non c'è nessuno che lavora per chi è sfortunato più di noi. Allora, non c'è nessuno, neanche chi è pagato per farlo. Allora, vedete qua? Adesso vi faccio vedere questa cosa. Vedete? Qui abbiamo le strisce bianche, ovvero parcheggio auto. No? Non ci devono essere i bidoni, però i bidoni ci sono. Se le strisce bianche fossero state blu, ci sarebbero stati questi cassonetti? Rispondetemi sinceramente. Allora, qui si lascia neanche un posto auto. Questo pezzo qua lo si prende tutto per i cassonetti. E si tolgono quei due cassonetti là, più quelli dell'umido, e si sposta tutto di qui. Poi dopo c'è anche un altro fatto. Un fatto che, com'è che posso dire, che succede troppo spesso. In Amagambiente c'è del personale che lavora contro, ovvero anziché agevolare il servizio, lo rende ancora più complicato. Perché quello che viene qui con il compattatore non segnala questo fatto qua. Ovvero, che non segnala che si va a occupare lo spazio per la difesa di disabili. Perché? Perché lui è pagato per guidare e vuotare il cassonetto. Non è pagato anche per vedere dove mette il cassonetto. Perché il cassonetto, lui lo mette dove si trova. Però sempre più spostato. Va bene? Allora, io spero che qualcuno che c'è in qualche ufficio, recepisca questa cosa. Perché è diritto anche per i disabili poter scendere dai marciapiedi. E qui ci va il personale che è pagato, pagato. Non è che è gratis, è pagato per controllare che tutto quanto sia a posto. Non è che noi abbiamo il personale che prende stipendio e basta. Ok? Siamo intesi? Va bene. Ok. Allora, da via Mazzoni, angolo via Tortona, io vi saluto. Guardate qui, è dovuto passare una persona che tra parentesi qui c'è anche una macchina che è fuori striscia. No? Dato che se non passa nessuno, tutti quanti fanno il cavoli oro. Questa è Alessandria. Alessandria. Questa è una situazione sia politica che amministrativa. Eh? Va bene? Ok. E ciao a tutti.